Siamo con Manuel Avara, portiere della Venere in bichini al termine della vittoria per 2-1 sull'Eurobet Palermo che l'ha visto protagonista, sarebbe dire quasi una bestemmia. Manuel, un momento che avete sognato da inizio stagione, avete avverato questo sogno, ci avete creduto dalla prima partita. Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti all'Eurobet perché è un'ottima squadra, infatti oggi è stata una partita abbastanza difficile. E vabbè, siamo molto contenti, andiamo in finale e adesso cercheremo di vincere sia il campionato che la Coppa Italia. Avete subito forse un po' troppo le invettive, le offensive dell'Eurobet Palermo, diciamo rispetto all'andata, è stata una partita più aperta, però certo non era facile giocare contro i loro che vogliono offendere a tutti i costi, come hai visto i tuoi compagni di difesa, l'abbiamo visto richiamarli a gran voce parecchie volte. Vabbè, oggi è stata una partita difficile, era normale che l'Eurobet attaccasse sin dal primo minuto e infatti ho dovuto richiamarli all'attenzione perché se no queste partite alla fine le vai a perdere. Quanto è stato importante il tuo contributo, quanto ti aiutano i compagni a compiere parate, avere la testa così libera per poterti buttare di riflesso, abbiamo visto un paio di parate impossibili. Vabbè, faccio il portiere e quindi devo parare, col cognome o para, solo il portiere potevo fare, infatti va bene così, ci godiamo questa serata. Ultima domanda, adesso lo spauracchio è quello dei campioni in carica che vorranno a tutti i costi. Il quarto titolo consecutivo, avete perso due volte in begli incontri in regular season, avete avuto ragione in Coppa Italia, lì anche hai parato l'impossibile, avete avuto ragione solo ai calci di rigore, adesso però ve la giocate a mente libera, il tutto per tutto, insomma contro il Checco. Vabbè, la finale è una partita a sé e andremo per vincerla, come andrà, andrà, comunque sia, è stato un bellissimo anno, perché essendo una neopromossa, giustamente, anzi, troppo abbiamo fatto e quindi va bene così, la finale è una partita a sé, quindi andremo a vincerla. L'ultima cosa, come vi ripresentate nel prossimo anno naturalmente? Dopo una stagione del genere daremo promossa a giocarvi la finale di Coppa Italia col Pizza Boom, la finale del campionato col Checco dello Scapicollo, qualche idea per migliorarsi ancora di più? Questa squadra ha le basi per fare bene per i prossimi 4, 5, 6 anni, quindi io vedo il profeta, vedremo, chi vivrà vedrà. Grazie e complimenti a Manolo Para, fortiere della Veneria.